Sono entrato morto qua perché è un po' il lasso dei polmoni e poi è venuto anche l'impatto Grazie a loro, dottoressa Fragola, dottoressa Stefano, mi sono ripreso e sono un'altra volta rinato, grazie a loro, grazie a tutta l'equipe qua Grazie, grazie a tutti Ha avuto veramente un decorso clinico all'inizio sfavorevole, poi a poco a poco si è ripreso Perché come ha detto lui ha avuto un infarto, un collasso polmonare e poi è stato in rianimazione Anche un'insufficienza respiratoria gravissima, però grazie a Dio siamo riusciti, grazie prima al Signore Poi alle cure, sia nostre che della rianimazione, siamo riusciti ad uscire da questo tunnel Abbiamo avuto diversi decessi ma di persone che avevano altre comorbidità molto gravi Però abbiamo avuto tante guarigioni e una di queste guarigioni è proprio questa di questo paziente che ce l'ha fatta Feliz Signore Linares e Vizionale! Grazie 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 Grazie